Grazie per l'invito, buonasera. Per me questa è la 1200esima puntata del caso Moro, ma la 201 ce l'ho a Matera, lunedì, all'archivio di Stato. Parto dal discorso che stavate facendo e dalla politica economica, ma un accenno soltanto perché l'economia sta a me come io posso stare a Marte. C'è un dato nella vicenda Moro che è riconducibile all'aspetto economico. Moro è l'unico presidente del Consiglio dei Ministri italiano che stampa le 500 lire cartacee come governo della Repubblica e non come Banca d'Italia. Nel mondo c'è stato un solo episodio analogo precedente a quello di Moro, fatto da John Kennedy che emise Danaro come Government of USA e non come Banca degli Stati Uniti. Che cosa unisce queste due cose? Che sono tutti e due stati ammazzati? Altro non sappiamo perché, guardate, sul caso Moro, siccome ognuno ritiene la vera verità, è un po' come la nazionale di calcio. Io non posso avallare o parlare di cose che non sono riuscito a provare, che possono essere anche legittime, ma senza le prove non sono legittime. Perché non lo posso fare? Perché io ho fatto una legge istitutiva della Commissione d'inchiesta. Per la prima volta la Repubblica italiana è riuscita ad approvare la relazione di una Commissione d'inchiesta, perché dal 1946 al 2018 non era mai successo. La Commissione d'inchiesta, la Commissione d'inchiesta sul Vaillant, la Commissione d'inchiesta sul Fiumicino, tante Commissioni d'inchiesta non hanno prodotto relazioni approvate. E quando non c'era la relazione approvata, tamquam non esset. Sono atti. Se voi pensate che la prima Commissione Moro produsse sei relazioni, una dei socialisti, una dei missini, una dei radicali, una dell'allora governo di CPC, più altre singole. E nessuna di queste viene approvata. Quando in una Commissione la relazione non è approvata, non esiste. Non è mai esistita la Commissione, praticamente. Sì, viene tutta azzerata. La seconda Commissione Moro ha visto non solo l'approvazione della relazione, ma l'approdo alla Camera della relazione, che è stata approvata all'unanimità, con una sola stenzione. E l'unanimità significa che hanno votato tutti. Cioè, dalla Meloni ai 5 Stelle, da Sella all'epoca, al Partito Democratico, a Forza Italia, al CCD, tutti. Quindi, io non posso discutere di ipotesi. Io discuto di quello che siamo riusciti a provare, senza avere la presunzione di dire che abbiamo provato tutto, perché così non è. Andiamo al merito della domanda. Il 3 novembre del 1941, l'Italia è in guerra. Qualcuno lo dimentica, ma in Italia c'è un dittatore, che si chiamava Benito Mussolini, il quale aveva annientato le poche libertà che lo statuto albertino, attenzione al verbo, concedeva ai sudditi. Perché non c'erano cittadini e non c'era riconoscimento. Il 3 novembre del 1941, il professore Oddo Moro, già 25 anni, all'Ateneo di Bari, svolge la prima lezione universitaria. Gli studenti sono straccioni, è una ventina. Quando dico straccioni, intendo dire in un clima di povertà totale del paese, che peraltro è in guerra. Lui esordisce, dicendo, dopo il buongiorno, dice, ragazzi, partiamo da una considerazione. La persona, prima di tutto, che cosa succede? Dalla sede dell'Ateneo, alla sede della milizia fascista, a Bari, ci saranno 500 metri. Arriva la polizia fascista che arresta Moro. Alla prima lezione, 3 novembre 1941. Dopodiché, siccome Moro era un fervente cattolico e un frequentante dell'ambiente ecclesiastico barese, arriva il vescovo che ha saputo, peraltro non barese, di Maiano Sabina, Monsignor Mimmi, il quale spiega alla polizia fascista, dice, ma scusate, questo professore che cosa ha fatto per essere arrestato? Ma perché viene arrestato? Perché il concetto della persona, prima di tutto, che proviamo nella Costituzione e che si riconduce alla nuova umanità, è trasgressivo rispetto all'idea di Stato di Mussolini, che qualche anno prima aveva chiamato o d'Està di Bari, perché all'epoca i sindaci che noi contestiamo apertamente oggi non si eleggevano, erano nominati, per dire spegnete quei cervelli, e i cervelli chi erano? Due stupratori che stavano nel cacere di Turi, criminali che rispondevano ai nomi di Antonio Gramsci, e Sandro Pertini. Mussolini dice, spegnete quei cervelli, che è peggio di uccidere persone. Quando Moro dice, la persona prima di tutto commette una violazione immensa rispetto all'idea dello Stato fascista, non quello liberale, quello fascista, dove prima di tutto ci sta Mussolini e dopo di lui ci sta il partito fascista. questa frase di Moro noi la troviamo tutta nella Costituzione, perché la nostra Costituzione, spiega Moro alla Costituente, no, non viene, non viene da lei, stia tranquillo. si fa una passeggiatina qui, ci fa compagnia. La nostra Costituzione non concede i diritti come lo Statuto Albertino. Moro spiega che la nostra Costituzione riconosce i diritti. Qual è la differenza? Che se io li concedo, li posso revocare, cosa che Mussolini fece con la complicità del re, anzi del mezzo re. Se io li conosco, non te li do e non te li posso togliere. E allora Moro spiega che ci sono dei diritti che nessuno può dare, ma sono diritto naturale. Avete mai visto un bambino, un neonato che nasce suddito o schiavo? L'uomo nasce libero. L'altro uomo lo rende schiavo. Allora Moro dice alla Costituente la libertà, la democrazia, la solidarietà, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto alla mobilità, il diritto all'informazione, la nuova umanità, sono tutti diritti connaturali al concepimento e non alla nascita. Perché Moro parla di concepimento e non di nascita? Per un motivo molto semplice. Perché il concepito li porta con sé questi diritti e siccome nessuno glieli dà, nessuno glieli può togliere e noi abbiamo un codice penale che non è che condanna l'infanticidio, condanna anche l'omicidio del non nato. Tant'è che in questo clima di femminicidio spaventoso spaventoso chi uccide la donna che sta incinta non viene condannato per un reato, ma per due. Ma quel non nato non è cittadino, è persona. La Costituzione italiana ruota intorno a questa impostazione e allora bisognerebbe riscoprire l'attuazione e l'attuabilità di tanti di questi diritti nella logica di una nuova umanità che altro non è che l'esaltazione della persona. Se oggi Moro fosse qui secondo lei non sarebbe lei probabilmente neanche io probabilmente ma secondo lei come avrebbe giudicato diciamo gli ultimi tre anni tre, quattro anni di limitazione delle libertà? Lo so che è una questione un po' polemica. Noi ci conosciamo da tanti anni. Io ormai sì. Tu a me non mi freghi. La storia non si fa con i sé perché se la nonna avesse il pisello sarebbe il nonno e invece la nonna allora io non posso essere così presuntuoso e riguardoso di guardi delle vostre intelligenze attribuire a Moro quello che penso io. Se tu mi dici gli ultimi tre anni io ti dico una schifezza ma se tu me lo vuoi far attribuire a Moro no. Io una cosa ti posso dire allora io la pongo diversamente mi dica mi dica mi dica certo certo Moro è per l'inclusione Moro fa il centro-sinistra con i socialisti perché il centrismo del gasperiano funzionale dopo la guerra tiene fuori dal governo del paese una fetta importantissima come i socialisti Moro fa non il compromesso storico che è un'espressione di Berlinguer ma la democrazia compiuta con i comunisti perché ritiene che un partito che aveva il 34% oggi per arrivare a quello per mettere insieme quattro partiti non poteva stare fuori dalla gestione del paese se Moro è per l'inclusione oggi noi abbiamo una società che esclude e che spesso si auto esclude perché se il modello sociale è Facebook dove uno parla da solo e se il modello sociale sono i partiti personali e beh siamo all'antitesi dello Stato che Moro voleva chiudo dicendo non c'è un giornalista di quelli della grande informazione intendendo dire che i grandi giornali e grandi televisioni lui l'ha fatto che in occasione della guerra Putin Biden perché la guerra non è Putin Zelensky è Putin Biden abbia sottolineato che le ragioni della guerra sono le stesse dell'omicidio Moro gli accordi di Yalta del febbraio 1945 perché perché Biden è convinto che l'Europa debba continuare ad essere in termini di sudditanza rispetto agli Stati Uniti Putin è convinto che l'Europa dell'Est sia sua sulla base degli accordi di Yalta del febbraio 1945 Moro voleva liberare l'Europa sia dagli americani che dai russi e per fare questo aveva necessità dell'appoggio di grandi masse popolari che rispondevano all'allora partito comunista gestito da Enrico Berlinguer attenzione durante i 55 giorni del rapimento Berlinguer viene definito dalla Pravda che era l'organo ufficiale del PUCUS servo delle multinazionali imperialiste perché la evoluzione morotea comporta ed include la evoluzione berlingueriana la liberazione dell'Italia e dei paesi europei dagli accordi di Gialta che erano di fatto altro che sovranità una limitazione della sovranità non in termini economici soltanto in termini politici in termini strategici in termini giuridici voi immaginate e nessuno lo dice perché noi siamo anche un po' ipocrita che per fare il presidente del consiglio negli anni 50 e 60 o il ministro degli esteri o il ministro degli interni doveva avere il placet di New York e di Londra perché gli americani e gli inglesi erano i vincitori della seconda guerra mondiale che avevano acquisito l'Italia nella propria sfera come la Polonia la Cegosovacchia la Romania la Bulgaria e l'Ungheria stavano nella sfera dei russi allora allora e chiudo arriviamo subito hai voglia i comunisti italiani a cantare bandiera rossa trionferà Togliatti che veniva definito secondo me giustamente il migliore all'epoca sapeva bene che in Italia il partito comunista non sarebbe mai andato al governo era come se l'ADC andasse al governo in Polonia arriviamo agli anni 60 noi noi abbiamo avuto una evoluzione di tutto quello che la guerra fredda e la guerra mondiale persa hanno comportato a partire dagli anni 70 fino agli anni 70 Gladio controllava tutti i comuni italiani e Gladio era una struttura nata per difenderci dall'invasione sovietica poi utilizzata anche a scopi criminali per una mercificazione della politica interna dopo gli anni 70 le cose sono migliorate sono migliorate ancora dopo la caduta del muro di Berlino e sono migliorate a tal punto che per molti e molti anni noi non abbiamo avuto il problema dell'unione sovietica ma abbiamo avuto il problema del terzo mondo quindi l'Afghanistan Saddam Hussein tutta la vicenda dell'Iran dell'Iraq oggi si sta riproponendo il problema di Yalta e quindi Biden fa la guerra a Putin sulla pelle degli europei perché c'è un altro problema che la gente non sa noi abbiamo sottoscritto un accordo anni 50 prima fine anni 40 sulla Nato che era un intelligente sistema difensivo in quella logica poi quegli accordi non sono più stati rivisti e soprattutto la Nato tutti gli stati aderenti che sono oltre una ventina non pagano nessuno pagano solo gli Stati Uniti e nel mondo esiste un principio chi paga comanda io faccio riferimento al mio partito nel quale io stavo in Parlamento non perché oggi non stia più ma faccio un altro mestiere quindi non sono più titolato a parlare per il partito ma leggo i giornali oggi ieri c'è una polemica all'interno del partito democratico sulle armi con alcuni esponenti io faccio i nomi e cognomi l'ex ministro Lorenzo Guerini che dice no noi dobbiamo mandare gli accordi allora amici cari un broccardo latino diceva si vis pacem para bellum oggi si vis pacem para pacem ma non lo dice nessuno noi abbiamo un mondo di armi e noi abbiamo in Italia più partiti o più pezzi di partiti che ritengono che la guerra in Ucraina cessi aumentando le armi non è così ma perché si fa riferimento alle armi perché manca un'idea della politica di pace e quindi non avendo l'idea dice sconfiggiamo ma noi corriamo i rischi da vent'anni a fare la guerra io facevo a scuola media anni 65 66 67 ma ve la ricordate la guerra del Vietnam per chi stava che aveva era subentrata alla guerra di Corea che era iniziata negli anni 50 una guerra si sa quando inizia ma non si sa quando finisce e secondo me riprendendo un po' la parte che condivido di quello che si stava dicendo prima sulla guerra c'è un'evidente violazione della Costituzione perché la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra e siccome siamo ipocriti noi non mandiamo i soldati in Ucraina ma mandiamo le armi per non parlare delle triangolazioni per tornare a Moro e passarti come secondo lei non ha più senso di esistere la Nato per quello che stai dicendo non ha più senso di esistere nella misura in cui fu concepita in un periodo storico che era quello della fine della seconda guerra mondiale va rivista come va rivista l'ONU il mondo è cambiato questi organismi non possono essere parlare di guerra non si può anche qui la società italiana non considera che il caso Moro non è l'omicidio di sei persone è la storia d'Italia perché il caso Moro la strage di Bologna grazie Ustica Piazza Fontana Piazza della Loggia Portella della Ginestra la P2 va tutto insieme non sono separate queste cose allora scusate l'interruzione è andata via la corrente in tutta Firenze e adesso possiamo riprendere dove eravamo rimasti stavamo parlando parlavamo io le avevo chiesto quindi secondo lei non ha più senso la Nato oggi nell'ottica nella dimensione del 47 no aveva accennato anche all'ONU e io le chiedo ma anche quindi l'Unione Europea per come oggi no l'Unione Europea ha un vulnus per colpa di chi ha ucciso Moro Moro voleva l'Europa dei popoli intendendo per tale un governo eletto dai cittadini invece oggi i cittadini a livello europeo eleggono i rappresentanti ma poi si mettono tutti insieme Moro voleva una struttura economica che fosse conseguenza del governo europeo non voleva Moro la confederazione ma voleva la federazione qual è la differenza? che noi abbiamo un'Europa nella quale alcune nazioni non hanno l'euro abbiamo delle politiche economiche che variano da nazione a nazione abbiamo l'Europa che spesso parla della Nutella e che per esempio sul problema dei migranti di fatto ritiene che il 90% sia un problema italiano perché quelli arrivano a Bedusa ma non è così non è così se noi siamo Europa quelli entrano in Europa ed entrano nel posto più vicino dell'Europa che è l'Ampedusa ma non è un problema italiano abbiamo un'Europa dove quei pazzi dell'Ungheria e della Polonia mettono il filo spinato allora anche lì Moro viene ucciso perché vuole costruire un'Europa di questo tipo ma l'Europa attuale non è l'Europa di Moro questo non significa che dobbiamo cancellarla ma dobbiamo riscrivere l'idea europea un'altra nota commentino politico poi torniamo sul Moro c'è chi dice che la prossima potrebbe essere l'ultima elezione europea quella del 2024 lei che pensa c'è questa possibilità oppure no? io penso di no però su questo diciamo non faccio il mago mi auguro di no c'è qualcuno che dice che Vartarella sia l'ultimo presidente della Repubblica al quale gli italiani guardano con simpatia e che il nuovo sarà odiato dagli italiani ma come facciamo a dirlo? c'è chi dice che probabilmente questo sarà l'ultimo anzi diciamo che è abbastanza avanti la proposta di semipresidenzialismo in Italia quindi probabilmente Mattarella sarà l'ultimo presidente presidente della Repubblica eletto dalle camere congiunte ma bisognerebbe dirlo agli italiani ma lei che ne pensa su questo possibile? io sono contrario per un motivo molto semplice quando la costituente ha scelto il parlamentarismo e non il presidenzialismo fu una risposta al fascismo e a Mussolini e all'idea che gli italiani hanno in tutti i partiti dell'uomo forte stiamo a Firenze qua non 200 anni fa non 200 anni fa nel 2014 un fiorentino ebbe 40% sull'idea di uno stato forte poi tentò di cambiare la costituzione e di farsi papa re e cardinale e oggi non sappiamo se arriva al 4% all'europea quindi l'italiano si innamora dell'uomo forte sia di destra che di sinistra faccio lo stativo e vabbè ma quindi io sono contro il semipresidenzialismo che è una strada sulla quale riflettere perché parlavamo prima gli italiani hanno votato a favore dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti pensando di fare un danno alla classe politica i partiti tutti nella storia d'italia sono stati luogo di alfabetizzazione nei partiti l'operaio negli anni 50 andava perché c'era qualcuno che gli leggeva il giornale gli insegnava la differenza tra essere e avere allora noi abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti altra grande maggioranza e oggi i ricchi si fanno il partito loro comandano scelgono i deputati e chi paga vince e chi non ha i soldi perde e non può fare nulla quando noi abbiamo chiuso la seconda guerra mondiale in Italia c'era oltre il 30% di persone che non sapeva leggere e scrivere nel sud si arrivava al 50% Moro ministro della pubblica istruzione afferma la scuola della Repubblica deve basarsi sul merito non sul reddito e inventa il più grande programma della storia della RAI che non è il grande fratello e non è nemmeno l'isola dei famosi che sono programmi per deficienti se sta qualcuno che li vede mi dispiace il più grande programma della storia d'Italia è stato non è mai troppo tardi un programma di educazione popolare dove un grande maestro Alberto Manzi insegnava gli italiani a leggere e scrivere e vi racconto un episodio che Moro raccontava a noi ragazzi dell'università di Bari qualche mese prima che il programma partisse sto parlando del 57 il direttore della RAI va da Moro si chiamava Arlata e gli dice Moro è ministro della pubblica istruzione e il programma non è mai troppo tardi lo finanzia il ministero della pubblica istruzione e gli dice signor ministro abbiamo fatto un concorso abbiamo trovato un maestro bravissimo però c'ha un difetto ora nel 57 sì sì nel 57 nessuno lo ricorda ma le donne in stato interessante assunsero un farmaco di stato che si chiamava talidomide questo questo farmaco sbagliato portò alla decimazione degli arti inferiori e superiori di molti nascituri in alcuni casi per contagio la malattia colpì la madre e il padre nel 57 uno che stava sulla serie delle rotelle non usciva da casa non potevi mandarlo in televisione Moro pensò a questo e gli chiese al direttore della RAI scusi ma qual è il difetto voi dovete sapere che Moro era un grande imitatore Moro faceva l'imitazione di Alighiero Noschese che imitava Moro è un capolavoro faceva l'imitazione di Andreotti di Salagat era bravissimo e lui quando faceva a noi l'imitazione del direttore della RAI la faceva perfetta perché il direttore della RAI iniziò a balbettare quando Moro gli chiese ma qual è il difetto e balbettando diceva se non riusciva poi a un certo punto come tutti i babuzzienti prese la rincolsa e disse il signor ministro il maestro ecco ecco non riusciva eccomunista e Moro rispose a me non interessa la testa del partito mi interessa che gli italiani siano indotti ad imparare a leggere e scrivere quel programma non è mai troppo tardi ha prodotto tre milioni in mezzo di analfabeti che sono andati a prendersi la licenza elementare frequentando la televisione e stiamo parlando di un periodo nel quale qualcuno meno giovane non ricorderà ma i giovani l'addizione si chiamava la più la sottrazione si chiamava la meno la divisione si chiamava la diviso e la moltiplicazione si chiamava la per cioè un linguaggio fuori dal mondo e quando io che avrete capito sono arrogante sono stato in un liceo di Gorizia commissi l'errore per arroganza perché anche la cultura non deve essere arrogante io dissi il programma non è mai troppo tardi partiva con una lavagna sulla quale il maestro scriveva le cinque vocali e una consonante che io chiamai come si chiamava all'epoca la mutina e i ragazzi dissero ma che cos'è questa mutina e avevano ragione i ragazzi era l'h cioè anche il linguaggio è cambiato in tutto questo vi sembrerà strano molto strano ma le prime notizie della morte di Moro e le prime minacce a Moro sono collegate alla riforma della scuola media obbligatoria perché il potere che non è quello di Palazzo Chigi esiste un potere militare culturale giudiziario religioso di tanti tipi il potere il popolo vuole ignorante io vengo da una terra nella quale un ragazzo di dieci anni vide morire il padre nei campi sotto un diluvio universale perché l'imprenditore agricolo disse anche se c'è il diluvio si lavora questo ragazzo si chiamava Giuseppe più noto con il besseggiativo di Peppino Peppino prese il posto del padre nei campi un giorno tornò a casa senza scarpe e la madre gli chiese ma e le scarpe? era l'unico paio che c'aveva le ho vendute come le hai vendute per fare che cosa? mamma voglio imparare a leggere e scrivere ho comprato da un rigattiere lo Zingarelli quel ragazzo si chiamava Giuseppe di Vittorio poi fu segretario generale della CGL morì a Lecco dopo un covizio nel 1957 quel ragazzo insieme con un signore che abitava qua vicino il miglior sindaco di Firenze lui non si è mai proclamato a differenza di qualche altro che si è proclamato ma non lo è stato sto parlando di Giorgio Lapira Lapira Fanfani e Di Vittorio segnarono nella Costituzione la parola lavoro perché la dignità della persona viene dal lavoro e si va a lavorare non per guadagnare lo stipendio ma per realizzare la persona questa in tutta nuova umanità invece noi oggi abbiamo fasce sociali che vanno a lavorare e guadagnano 400 euro al mese che è una mortificazione dicono ma fanno due euro al giorno e mortificazione lo stesso e qui si apre un altro discorso sentivo prima e condivido lo Stato non può dire non ci stanno i soldi perché basta comprare qualche F-135 in meno e i soldi escono tenete presente che le F-135 che sono aerei da guerra costano 140 milioni di euro uno ma quando io una finanziaria del governo Berlusconi 2011 2010 feci la proposta di ridurre l'acquisto dei F-135 una decina di imbecilli come me votarono a favore tutto il Parlamento potò conto e non ci fu un rigo sui giornali ecco perché Moro ci diceva questo paese non si salverà la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere voi votate chi volete ma il senso del dovere scisso dalla responsabilità del diritto rende questa società nulla e la persona viene massacrata e quando la persona viene massacrata non si parte dal più ricco si parte dal più povero considera i tempi che qui vogliono servire pubicidio ultima domanda poi lasciamo dieci minuti per le domande così poi possiamo anche andare a cena e per voi lo dico durante il tempo dal 2018 a oggi mi ha parlato di vari processi che sono stati influenzati da questi eventi processi economici ne abbiamo parlato anche oggi geopolitici strategici di equilibri internazionali a livello invece di coesione sociale che tipo di impatto ha avuto quell'evento della scomparsa di moro del rapimento e se ci sono se ci sono stati se c'erano dei processi che attraverso questo evento sono stati in qualche modo marginati o magari bloccati secondo lei la morte di moro porta ad un arretramento della democrazia della libertà e dei diritti degli italiani come fai tu e sei bravo immaginiamo se moro non fosse stato ucciso dopo due mesi dalla sua morte sarebbe stato letto Presidente della Repubblica avrebbe favorito un governo non dell'astenzione di CPC il PC mancava al governo del 48 avrebbe determinato l'assunzione di responsabilità del PC che fino ad allora era un partito di opposizione avrebbe prodotto l'allontanamento del partito comunista da Mosca da Mosca e moro quello che voleva fare per l'Italia lo voleva fare per tutti gli stati dell'est europeo nel giro di due o tre anni democrazia cristiana e partito comunista sarebbero diventati alternativi e quindi chi vinceva le votazioni governava chi le perdeva faceva minoranza si sarebbero creati due poli uno cattolico e l'altro socialista non avremmo avuto il CAF non avremmo avuto Berlusconi non avremmo avuto chi ha legittimato l'uso delle televisioni Berlusconi un altro mondo o sedina cattiveria avete letto oggi i giornali c'è un'intervista che ha fatto flamore quella di Giuliano Amato su Ustica Amato non va applaudito per le cose che ha detto va biasimato perché perché se le dicesse lui andrebbe applaudito ma se dopo 40 anni quelle cose che io dico da 20 anni le dice un ex presidente del consiglio ma tu finora dove stavi perché Amato sostanzialmente che cosa ha detto la verità che i francisi volendo uccidere Gheddafi per sbaglio colpirano l'Italia e i generali italiani doppia morale e doppi soldi invece di rispondere alla repubblica per la quale avevano giurato risposero alla Nato e quindi non dissero la verità guarda che nel caso Moro tutti i generali ci hanno detto noi nel contrasto Nato Repubblica italiana noi abbiamo risposto alla Nato che era un organo sovranazionale e che è follia e noi ad applaudire Amato che oggi dice queste cose ma lui dove stava? Lui ha fatto il presidente del consiglio ma che non le ha dette prima queste cose? Allora siamo un popolo di smemorati ma se noi siamo smemorati l'Italia rotola sempre più A proposito di questo aspetto perché c'è una domanda però me ne fa uscire almeno altre due con questa risposta Che io devo dire qualcosa sull'apimento e qualcosa sulla morte perché se no mi sparano Che ruolo ha l'esercito italiano nella democrazia all'interno della struttura dello Stato perché almeno questo racconto che ci fa lei cioè dei generali che giurano sulla Costituzione italiana che però rispondono alla Nato devo avvedere che gran parte del nostro territorio è fondamentalmente occupato da basi Nato da armi Nato da armi atomiche anche in alcuni casi di state atomiche l'esercito oggi risponde ancora alla Repubblica oppure risponde solo di un mediamente alla Nato Ma guarda il taglionetto io non sono in grado di dirtelo io ti dico che nel caso Moro molti generali ci hanno detto no non è stata la politica è stata la Nato ad impedirci di fare alcune cose e questo è assurdo tenete presente una cosa che le nostre forze dell'ordine dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia si ingrassarono di tanti fascisti che diventarono funzionali in termini di antifascismo ma che vissero la contraddizione che il pericolo non era più il fascismo era il comunismo e quindi quando gli americani entrano in Sicilia i capi mafia diventano tutti sindaci perché il problema è il comunismo in quel momento e per combattere il comunismo ci serviamo dei fascisti portella della ginestra De Gasperi va negli Stati Uniti De Gasper presidente del Consiglio gli americani gli dicono devi sbattere fuori i comunisti dal governo De Gasperi temporeggia perché intelligentemente in una democrazia debole come quella del 48 lui ha necessità di avere un grande partito popolare accanto gli americani la mafia fanno portella della ginestra anche contro De Gasperi il quale dopo un po' sbarca i comunisti in tutto questo le nostre forze armate hanno subito l'influsso di uno che abitava qua vicino ad Arezzo che si chiamava Licio Gelli e la P2 voi immaginate che nel caso Muro i vertici di polizia finanza carabinieri esercito marina e aeronautica sono tutti piduisti tutti tutti ma come lo trovavamo Muro noi se quelli che lo cercavano erano criminali loro e sto parlando delle forze armate per non parlare poi della politica della magistratura il segretario generale della camera uomo potentissimo Cosentino era piduista il capo dei servizi segreti era piduista tutti piduisti noi abbiamo pensato che i piduisti fossero due che erano di serie Z Emilio Fede e Silvio Pascolo ma quelli che contavano a P2 erano altri la sinistra ha fatto la battaglia contro il piduismo di Berlusconi ma quello era un fatto televisivo che era di peggio allora tutto questo perché? perché noi avevamo all'epoca un problema che era il comunismo sovietico e quindi tutto quello che serviva in chiave anticomunista andava bene uno dei primi sindaci fatto dagli americani in Sicilia fu condannato a 40 anni di carcere e il capo della mafia e gli americani fece lo sindaco ma perché era funzionale la mafia in chiave anticomunismo allora noi per capire i nostri guai dobbiamo collocare l'Italia in un contesto politico geografico ed economico cioè l'Italia non è la Svizzera e quindi tenete presente che dice Franceschini che non è il ministro ma uno dei capi delle Brigate Rosse Alberto Franceschini che nei 55 giorni del caso Moro senza senza il consenso dei servizi segreti russi americani e israeliani a Roma non si muoveva foglia vi racconto una cosa che pochi sanno dopo la fine dei partiti nel 92 93 in via Caetani cioè dove fu trovato il corto di Moro c'è una chiesa un po' più avanti a sinistra su quella chiesa fanno dei lavori e trovano dei cannoni puntati su botteghe oscure la sede del partito comunista questi cannoni registrano tutto quello che dicono quelli a botteghe oscure di chi sono questi cannoni della Nato che ascoltano i comunisti quello che dicono poi viene venduto il bottegone c'è la sede del partito comunista via botteghe oscure fanno i lavori di strutturazione e sulla sede delle botteghe oscure sul terrazzo trovano analoghi cannoni di fabbricazione sovietica puntati sulla sede della DC piazza viene da ridere perché i comunisti russi registravano i democristiani e la Nato registrava i comunisti cioè ognuno registrava l'altro ma questa era Roma negli anni 50 60 70 perché Roma era l'epicentro debole della divisione del mondo uscito dagli altri Moro e Berlinguer tentano di superare tutto questo per questo Moro viene ucciso perché guardate in via Fani ci sta l'andrangheta la mafia la camorra la banda della Magliana i servizi segreti italiani e stranieri tutto provato anche con foto qualcuno ha mai sentito l'agenda rossa di Borsellino sì 19 luglio 92 scomparsa ma sapete chi l'ha presa no non è un mistero ufficialmente lo sapremo fra 50 anni l'hanno preso i servizi segreti italiani che stavano sul posto di vieta medio quando scoppiò la 126 se voi andate a vedere dei filmati Rai vi accorgerete che in via Fani le borse di Moro che non sono state più trovate le ha presi un generale dell'esercito il cui cognome era Siracusano è un colonnello dei carabinieri tutti i due nella P2 e sta il filmato che questi si prendono le bombe e se ne vanno le borse e se ne vanno ma questo filmato Rai seppur non trasmesso soltanto io l'ho visto nessuno l'ha visto nessuno l'ha visto il filmato Rai trasmesso da Fraghese nel quale si vede che il bar Olivetti è aperto il 16 marzo 78 e non l'abbiamo scoperto ma come dai filmati di Rai 1 TG del 16 marzo 78 servizio di quel grande giornalista che era Paolo Fraghese ma la magistratura ma la magistratura è la stessa che si beve la seduta spiritica dove parteciparono dieci professori universitari cinque uomini e cinque donne le mogli e questi cinque uomini diventarono tutti ministri uno anche presidente del consiglio e quando noi le abbiamo e anche presidente Romano Prodi faccio i nomi Klob Aldassar 4 licenzi a sinistra e vicenzi a destra e quando noi a distanza di quasi 40 anni dal 78 li abbiamo chiamati in commissione loro hanno detto confermiamo quello che abbiamo detto alla commissione nel 79 e che cosa avevano detto che la seduta spiritica evocando Giorgio Lapira e Doluigi Sturzo aveva prodotto il nome di Gradoli ora nessun magistrato italiano ha detto oh falsa testimonianza perché le sedute spiritiche non esistono perché se io avessi questa capacità ora mi farei venire una bella coppa di caffè granita di caffè con panna e lo offrirò a tutti voi e invece la seduta spiritica ha prodotto Gradoli no perché Tina Anselmi dice l'indicazione non era Gradoli era zia Gradoli a Roma sulla Cassia ma il ministro degli interni Cossiga dice a Roma alla moglie di Moro dice a Roma non esiste via Gradoli io faccio un'indagine del pagine giallo dell'epoca via Gradoli sta ma soprattutto scopro che in via Gradoli i nostri servizi segreti e quindi il ministro degli interni ha degli uffici ma non risulta via Gradoli a Roma e quello che mi hanno raccontato in televisione il docino perdeva l'acqua quella operazione è stata organizzata a seguito del comunicato numero 7 delle Brigate Rosse realizzato non dalle Brigate Rosse ma dalla banda Domaiana come fai a scoprirlo semplice tutti i comunicati delle Brigate Rosse hanno la stella a 5 punte qualcuno se la ricorda come veniva realizzata mettevano le centolire e disegniamo e disegniamo la stella dentro il comunicato numero 7 al di là della differenza terminologica e del linguaggio la stella è grande così non è stato fatto dalle Brigate Rosse è stato fatto da un uomo della banda Domaiana a soldo dei servizi segreti Tony Chicchiarelli uno che poi fa per caso la più grande rapida in una banca italiana 40 miliardi in una banca che normalmente teneva meno di un miliardo in cassa va questo qui ruba 40 miliardi però dopo la settimana viene ucciso perché non deve parlare la banda Domaiana sta tutta dentro il caso nuovo la criminalità sta tutta dentro il caso nuovo chi frequenta il bar Olivetti quello che dice che era chiuso in via Fani un tipo Tano Badramenti che è quello che fa uccidere Perpino in passato lo stesso giorno poi lo stesso giorno sì ma un tipo chiamato Frank Tredita perché Tredita perché questo tipo che era un boss italo-americano va a fare una rapina a New York in una banca il venerdì sera riesce a rubare circa 10 miliardi di lire e il sabato mattina si deve andare lui non sa che la cassaforte è una grande stanza ha una chiusura a tempo quindi mentre sta andando via i soldi che ha messo già fuori la porta si chiude e lui si trova due dita dalla porta siccome non si può più muovere prende il cortello e si taglia e si taglia le due dita Frank Coppola ha detto Frank Tredita cioè in via Fani sta la criminalità perché dice Franceschini sempre il brigatista scusa ma perché voi avete eseguito il colpo di grazia alla scorta perché nessuno doveva poter riferire quello che aveva visto in via Fani allora io che faccio l'ingenuo scusa e che cosa aveva visto il brigatista rossa magari c'era l'universo mondo l'universo mondo e poi viene in commissione tale Adelmo Sabba che è morto poco fa però la testimonianza sta là e le testimonianze stanno tutte sul mio sito quindi si possono controllare e Adelmo Sabba viene a dire che il caposcorta Rocco Gentiluomo gli ha detto la mattina del 16 marzo che lo hanno messo in ferie di autorità e al posto suo capitò tale Francesco Zizi di Fasano provincia di Brindisi che non era uno della scorta di nuovo e Sabba chiese ma perché ti hanno messo in ferie mi hanno voluto salvare dove era nato Gentiluomo San Felice Iato paese dell'Andrangheta e chi altro è nato là vicino un generale chi ha vinto il festival di Sanremo nel 48 lo sanno tutti questo generale si chiamava Giuseppe Delfino faceva i rapimenti con l'Andrangheta andò la polizia alla casa il generale dei grabinieri e gli trovarono 3 miliardi di lire la moglie disse frutto dell'onesto lavoro di mio marito peccato che quella scema non sapeva che la polizia su quelle banconote pagate per un riscatto aveva messo la polverina come si faceva a me a te non so se ricorda lei lei sicuramente forse anche qualcuno del pubblico mi faccio anche una sigaretta e la sera nell'edizione delle 20 del 16 marzo del 2018 sulla 7 Enrico Mentana fa vedere in esclusiva delle foto di Moro fatte la mattina prima del rapimento dentro la chiesa di Santagliari Santagliari no no Santagliari com'è possibile questa cosa com'è possibile che ci siano delle foto di Moro che va a messa la mattina prima di essere capito ma chi l'ha fatta queste foto secondo lei questo non posso dire com'è possibile che ci siano queste foto che stesse nella chiesa ci possono essere tante spiegazioni ma questo è un problema che noi non ci siamo posti anche perché all'epoca non lo sapevamo questo aspetto quello che invece noi ci siamo posti in riferimento a quello che dici tu è un altro aspetto perché dalla chiesa Moro percorre via Fane cioè per andare lui deve andare in Parlamento per farci capire se uno deve andare da Firenze a Livorno non passa da Grosseto certo da Firenze ma a Grosseto poi va a Livorno ma va ricoverato la strada che fa Moro è una strada contro tendenza lui non deve andare da Via Fane per andare al Parlamento e perché molti sostengono che Moro passasse ogni giorno da Via Fane il che è falso e viene smentito da un attore italiano che si trovò sul luogo del delitto Francesco Pannofino che era uno studente universitario e prendeva lì il tram per andare all'università perché noi non lo sapremo mai ma sappiamo una cosa all'epoca oggi è difficile parlare di queste cose perché cellulare whatsapp ma all'epoca la macchina della polizia aveva il collegamento col ministero degli interni cioè alzava il telefono e parlava con il ministero degli interni e il ministero degli interni diretto da Cossiga che faceva i percorsi delle persone scortate erano teleguidati quindi il ministero degli interni diceva fai questa strada questa strada questa strada e chiudeva il collegamento quando la persona scortata arrivava a destinazione tutto questo comportava che la telefonata non è che fosse registrata era registrato il numero del ministero degli interni che interloquiva con la macchina della polizia perché non è che lui poteva chiamare la macchina no Querrollino che aveva registrato tutti i numeri la mattina del 16 marzo scompare da dove? dalla scrivania del capo della Digos Spinella uomo della P2 come lo era Umberto Federico D'Amato che era il capo dei servizi segreti il quale era passato dall'ovra fascista ai servizi segreti italiani tante volte nelle ultime volte ci siamo visti abbiamo sempre fatto scappare una cosa ma in tutto ciò il ruolo di Andreotti velocemente una risposta se ne va e poi iniziate ad alzare le mani così almeno facciamo qualche domanda dal pubblico allora scusi un secondo come ho detto regia ma il microfono al collo funziona ancora perché io lo vedo rosso qua ok a posto come ho detto sull'intervista Repubblica di oggi Repubblica Bari Andreotti si è nascosto bene Cosiga si è nascosto male Cosiga Andreotti per la democrazia cristiana Ugo Pecchiori per il partito comunista sono state le menti del caso Moro nessuno venga a dire che ha sparato Cosiga perché così non è Cosiga Andreotti e Pecchioli hanno impedito che lo Stato quello nostro facesse lo Stato cioè lo Stato che durante la presenza del Consiglio Gentiloni ha pagato per la liberazione dei rapiti in Medio Oriente non ha pagato per Moro anzi ha ostacolato che Moro fosse trovato perché perché Moro vivo sarebbe stata una rivoluzione gentile per la liberazione